Capitolo terzo. Geppetto tornato a casa comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice, una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? disse tra sé e sé. Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchio i ragazzi e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso. Geppetto vedendosi guardare da quei due occhi di legno se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito ho chiacci di legno perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. Smetti di ridere disse Geppetto impermalito ma fu come dire al muro. Smetti di ridere ti ripeto urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smise di ridere ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto per non guastare i fatti suoi finse di non a vedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento poi il collo poi le spalle lo stomaco le braccia e le mani e finite le mani Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. Pinocchio rendimi subito la mia parrucca. E Pinocchio invece di rendergli la parrucca se la messe in capo per sé rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio Geppetto si fece triste e melanconico come non era stato mai in vita sua e voltandosi verso Pinocchio gli disse birba ad un figliuolo non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre. Male ragazzo mio male e si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito, disse allora fra sé. Dovevo pensarci prima, ormai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché infilata la porta di casa saltò nella strada e si dette a scappare e il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada faceva un fracasso come ventipaia di zoccoli da contadini. Piglialo piglialo urlava Geppetto ma la gente che era per la via vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero si fermava incantata a guardarlo e rideva rideva e rideva da non poterselo figurare. Alla fine e per buona fortuna capitò un carabiniere il quale sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere senza appunto smuoversi lo acciuffò pulitamente per il naso era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto il quale a titolo di correzione voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi ma figuratevi come rimase quando nel cercargli gli orecchi non gli riuscì di poterli trovare e sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente il capo andiamo subito a casa. Quando saremo a casa non dubitare che faremo i nostri conti. Pinocchio a quest'antifona si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì dintorno e a far capanello. Chi ne dice una? Chi un'altra? Povero Burattino! Dicevano alcuni. Ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe? Quello maccio di Geppetto! E gli altri soggiungevano malignamente. Quel Geppetto pare un galantuomo ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero Burattino fra le mani è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel pover uomo di Geppetto. Il quale non avendo parole lì per lì per difendersi piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando. Sciagurato figliuolo! E pensare che ho appenato tanto a farlo un Burattino per bene. Ma mi sta il dovere! Dovevo pensarci prima! Quello che accadde dopo è una storia così strana da non potersi quasi credere e ve la racconterò in quest'altri capitoli.